lei e lilly appena arrivata e oggi facciamo una bella sua elettatura ci rimettiamo il sesto ne abbiamo un po bisogno e anche se sono bella diventerò ancora più bella bagnetto lilly patatina tanto brava ciao asciugatura l'aria in faccia non ci piace ciao che bello vieni fatti vedere che bello bellissimo ovviamente la testa non è stata tagliata da me aspettiamo che ricresca per ridare di nuovo la linea alla lunghezza che ha nel corpo purtroppo è stata tagliata da un altro operatore adesso aspettiamo che ricresca così poi diventerà di nuovo una nuvoletta di pelo ma sono bellissima e senza un nodo guadalu 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 che bel pelo guadalu bellissima lilly andiamo lilly ma quanto è bella questa principessa quanto è bella ma quanto è bella eh guadalu 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 guadalu